Musica Vi assicuro un effetto grandioso 12 contrabassi, 12 contrabassi se vogliono non temono un'orchestra intera Il vero e proprio polo generante dai cui l'ombri sgorga il seme della musica sono io, cioè il basso, cioè il contrabbasso si generano il senso e la vita stessa della musica anzi la vita per eccellenza e a questo contribuiamo noi, noi dell'orchestra e soprattutto noi contrabassisti, cioè io è già una bella soddisfazione non le varie L'unico compositore importante che c'era allora era Bach che è stato immediatamente dimenticato perché era protestante abbiamo dovuto riscoprirlo fossi vissuto in quell'epoca anche io sarei diventato un solista di fama mondiale comunque si chiama Sara eh, quella sarebbe la donna per me non potrei mai inumorarmi di una violista o di una viola a sentirla cantare non la si crederebbe capace di tanto nel palco della direzione il direttore del teatro con sua moglie la sua amante la sua famiglia i suoi ospiti d'onore muti compare applausi si inchina i suoi capelli appena lavati ondeggia dall'ultima fila dell'orchestra dove ci sono i contrabbassi si leva il grido di un cuore innamorato Sara ahhh 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 Grazie a tutti.